Ciao ragazzi, benvenuti e ben trovati sul mio canale, io sono Maglus Continuiamo sempre la nostra fantastica storia con Batman 8, oltre un serious Ci sta piacendo un casino, abbiamo già incontrato una brutta faccia, un brutto cefo Sto parlando di Falcone, ma diciamo che l'abbiamo messo a posto Vi dico una cosa fondamentale, in questo è importante come rispondiamo Perché in base a come rispondiamo si evolve la storia Abbiamo un lasso di tempo abbastanza breve, però dai La cosa importante è che comunque è sottotitolato in italiano, è tutto in italiano I sottotitoli sono abbastanza grandi, si vedono bene e questo è fantastico Naturalmente come andiamo ad avanti, ci diciamo qua a saluti E partiamo in successione con Pinuccia Aquilani, Ariane Merlino, Gabriele Orviato, Ray Po E Tony LaCosa118, però spero che questo avventura vi stai facendo Naturalmente come al solito vi invito a qualsiasi promette, un bel mi piace e vai Un bel mi piace e vai E se ne l'amore Il bel mi piace, è io E' io Ok E se ne l'amore E se ne l'amore la macchina è gradevole anche la bat caverna episodio prima lo sappiamo o che bel costume che hai batman alla tua destra o bruci scusami ti vede preoccupato ok sono biglietti penso questi no del cinema ok ah no non credo siamo noi siamo noi sì 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 abbiamo avuto un piccolo scontro con a ok vediamo a cosa dobbiamo dare la caccia ok abbiamo a perfetto quindi penso che sia una sorta di computer ci possiamo già mettere anche il chiasco no ma non credo proprio aspetta cappuccio è vero è vero allora ci dovrebbe essere qualcosa non penso possiamo andare avanti di qua si possiamo girare per tutta la stanza wow ok allora il computer dove poter leggere allora qualche cosa abbiamo gadget sul tavolo perfetto qui che cosa abbiamo driver di informazione ok le abbiamo presi analizza i driver e pensa che dobbiamo mettere qua dentro vai oh magari ce l'avessi anche io un segnolino così inseriamo ecco 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 ah che bella proiezione che bella proiezione che fai allora per ruotare usa perfetto magari vediamo meglio qualcosa ecco 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 Sì, grazie per l'interruzione. E controlliamo il codex. Ok, credo che usa il codex per ricercare informazioni sulla Lala. Codex pensa che sia qua, no? Sì, infatti. Quindi dobbiamo cercare delle informazioni su Catwoman, che dovrebbe essere questa qui. Dovrebbe, che chiamo? Trovata. Ok. Vabbè, quali sono le informazioni? Vedi, su tutti, eh. No, c'è una scuola di Batman. No, c'è una scuola di Batman. Ah. No, c'è una scuola. biglietto da vista. Prendiamo. Ah, è un appuntamento. No, c'è una scuola di Batman. 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 No, c'è una scuola di Batman. 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 Chissenefrega Naturalmente come è stato il video Questa è un bel commento Fatemi sapere la vostra Ci vediamo al prossimo video E bye bye